Hola a todos, buongiorno ragazzi, troppe carte, continuo a mescolare un pochino e iniziamo ovviamente con le energie generali, poi passeremo all'amore, ma vediamo subito cosa sta accadendo oggi o nei giorni intorno ad oggi. Ok, prima carta fuori e poi prendiamo la seconda e prendiamo la terza, bene bene bene, un fante di spade, gli amanti e la stella con la passione, passione in qualcosa che stiamo facendo, che bello quando mettiamo davvero il giusto impegno nelle cose che facciamo e queste crescono, crescono insieme a noi. Sembra proprio che ci stiamo mettendo davvero impegno, passione in qualcosa, qualcosa che ci piace, che facciamo ma che ci piace fare e questa cosa cresce, cresce dentro di noi e ci permette appunto di canalizzare le nostre energie in qualcosa di bello ma anche di utile, qualcosa che ci porta comunque i suoi frutti, che siano dei frutti fisici o metaforici non importa perché comunque ci sentiamo appagati da quello che facciamo. E' anche vero che arriva poi sempre un momento in cui fermarci e riposare, indipendentemente da quello che facciamo, c'è sempre un momento in cui bisogna prendere una pausa. La pausa che può sembrare un perdere tempo per qualcuno ma in realtà non lo è, non è un perdere tempo perché è un momento in cui possiamo acquietare, quietare la mente, possiamo lasciare che quel chiacchiericcio mentale che noi abbiamo costantemente, giorno dopo giorno, dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quello, facciamo questo, facciamo quello, per un attimo si ferma ed è proprio in quel fermarsi che arrivano le idee più belle, che arrivano gli input e che poi avremo appunto la possibilità di mettere in pratica quando ci rimetteremo al lavoro. Ora, sembra che avremo, sembra che accadrà un qualcosa che ci metterà sull'attenti, ci spingerà a essere allerta, qualcosa con cui dovremo confrontarci e su cui dovremo prendere una decisione, perché la carta degli amanti in effetti dopo il fante di spade è una situazione che arriva davanti ai nostri occhi, ci si presenta davanti e a quel punto noi dobbiamo decidere come gestirla, dobbiamo decidere come comportarci con questa situazione. Sembra che la scelta non sia nemmeno tanto difficile da fare, proprio in realtà ragazzi non è una scelta difficile, è una scelta tra l'altro sembra proprio ovvia, scontata. Scontata è che ci porta alla carta della stella, che ci porta appunto a fare la scelta migliore, che ci porta sulla nostra strada, sulla strada giusta, verso il nostro desiderio. Qui non si tratta solo di avere degli obiettivi, di cose che vogliamo, qui si tratta proprio di desideri che sono stati tra virgolette un po' programmati per noi prima di nascere. La nostra anima ha uno scopo e il raggiungimento di quello scopo è la soddisfazione più grande per ciascun essere umano. E noi stiamo andando lì, stiamo andando in quella direzione, stiamo realizzando il nostro scopo. A volte non è semplice, è ovvio, ci sono degli ostacoli da superare, a volte ci sono delle cose da fare o da dire che non vorremmo fare o dire, perché vanno un po' contro il nostro carattere, ci mettono in difficoltà, magari ecco dobbiamo dire un qualche no, dobbiamo andare contro le idee di qualcun altro, dobbiamo fare un piccolo sforzo per essere più coraggiosi, più forti, ma fa parte del gioco, fa parte della vita, quindi ecco qualunque cosa accadrà che ci metterà un attimino sull'attenti, noi in ogni caso troveremo la soluzione. E in effetti, ragazzi, in effetti, a parte sprecare un po' di energia in questo intoppo, che poi in realtà non è mai sprecata perché comunque è energia che noi usiamo per crescere, per usare l'esperienza che ci arriva davanti agli occhi in modo appunto evolutivo, quindi è un piccolo sforzo, è un piccolo dettaglio che va visto, va vissuto, ma una volta superato noi da adesso in poi sapremo sempre come superare lo stesso ostacolo. Se lo abbiamo fatto bene non capiterà più, se non lo abbiamo fatto bene, l'universo ce lo riproporrà nuovamente in avanti in una diversa forma. È sempre così che funziona. Noi siamo costantemente messi alla prova e a volte troviamo appunto la soluzione chiara e diretta, la soluzione più diretta per sciogliere quel nodino, per far vedere all'universo che sappiamo gestirla quella cosa e che non è più un ostacolo per noi. E allora ecco che quel qualcosa non si presenta più. Altre volte, vi faccio un esempio, arriva una persona e vi fa una battuta poco carina e voi non sapete rispondere. L'universo vi manda un'altra persona che vi fa una battuta poco carina, voi ci restate male, cercate di dare una risposta perché stavolta volete comunque difendervi, però non vi riesce bene. La terza volta magari vi torna lo stesso di prima che vi fa un'altra battuta, ma voi stavolta siete pronti, gli date una risposta netta, secca, ecco che nessuno viene più a fare battute poco carine. Questo è un esempio di un qualcosa che capita molto frequentemente a tutti noi e che però spiega benissimo il processo e il meccanismo. Questo qualcosa accade. Non so ovviamente in che ambito della vostra vita, può essere casa, famiglia, amore, amici, progetti di qualunque tipo, ma voi dovete scegliere come reagire all'evento e la vostra scelta sarà la migliore. Sembra che proprio ci sia l'energia giusta per superarla la cosa e per dire ok, basta, da adesso in poi, aria, non accadono più determinate cose, le abbiamo imparate. Chiaro è che sta a voi usare bene questa energia, oppure no, ma diciamo che l'occasione è favorevole, quindi sfruttatelo bene questo momento, l'occasione è davvero favorevole. Adesso andiamo un po' a guardare cosa accade in amore per qualcuno di noi o in generale nell'ambito delle relazioni per qualcun altro, perché questa parte della stesa, come sapete, anche se parla di sacro maschile e sacro femminile, non solo non parla di uomo e donna, perché un sacro maschile può essere manifestato da una donna e un sacro femminile può essere manifestato da un uomo, ma non parla nemmeno necessariamente di amore, perché se non avete un partner o non ve ne frega un tubo di flirtare con qualcuno, questa comunque è una parte della stesa che parla di relazioni in senso più ampio, quindi vi ritroverete da una parte o dall'altra o perché no da entrambe le parti, in base a ciò che state vivendo. Quindi, ok, prima carta fuori, prendiamo tre carte per il maschile e tre carte per il femminile. Uno, due e tre. Ok, ok, ok. E allora, qua c'è un maschile che se la studia bene la situazione, vediamo anche gli oracolini cosa dicono. Eh sì, 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 sì. Qua c'è un maschile che studia bene la situazione, in base a quello che sta accadendo, in base a quello che è accaduto finora, deve prendere una direzione nuova. Se vuole in effetti avere dei cambiamenti, deve prendere una direzione nuova, deve fare le cose in modo un po' diverso. La papessa è proprio la fase di studio, di studio della situazione. Osservo. Osservo, guardo quello che sta accadendo, guardo magari qualche social, vedo un po' l'altra persona cosa sta combinando, oppure mi preparo, penso a quello che è accaduto in passato, penso a gli errori che ho fatto, le reazioni che ho ottenuto, e quindi penso magari che per avere reazioni diverse devo fare qualcosa di diverso. In effetti, qui c'è un maschile molto deciso, molto deciso, che anche se compie un semplice, piccolo, piccolissimo gesto, perché si tratta di un fante di denari, siccome si tratta di una cosa molto concreta, questo gesto potrebbe davvero andare a buon fine. Sì, potrebbe assolutamente andare a buon fine, potrebbe essere accolto bene, potrebbe ottenere dei risultati. L'importante è essere deciso, quindi non avere titubanze, non avere dubbi, non oscillare come un'altalena, ma andare dritti al sodo. Per quanto riguarda il femminile, il femminile, anche il femminile fa un gesto, in effetti, pur trovandosi un po' spiazzato, perché rimane per un attimo spiazzato, perché vede che il maschile sta facendo qualcosa di un po' diverso, va in un'altra direzione. Il femminile non se l'aspettava, quindi dopo un attimo di confusione, capisce, capisce, capisce anche di preoccuparsi inutilmente, a volte di determinate cose, ed è proprio questa consapevolezza che sblocca qualcosa, e che permette appunto un'interazione, perché capire di essere preoccupati inutilmente, permette poi di aprire le porte a dei flussi energetici che portano al trade i denari, e quindi che portano davvero a una crescita bella. Quindi sia il maschile che il femminile compiono dei piccoli gesti, vi dico veramente piccoli, stiamo parlando di due fanti, ma sono comunque dei piccoli gesti che se fatti in modo deciso, soprattutto da parte del maschile, ecco che il femminile reagisce davvero bene, e questa è secondo me la cosa più importante, la reazione, che poi è una reazione da tre di denari, quindi in realtà è una reazione mica poi tanto piccola, magari non si vede immediatamente, magari non è così evidente, però è una reazione che porta a migliorare diverse cose, a proprio una vera e propria crescita, potremmo dire. Adesso andiamo a prendere un'ultima carta, io intanto ovviamente vi ricordo che per prenotare una sessione privata potete farlo o dal sito internet oppure potete scrivermi, se volete la sessione di tarologia potete prenotare dal sito quella da 90 euro in chiamata o videochiamata, in cui mi potete fare tutte le domande che volete, o in alternativa, se volete la sessione da 50 euro, si tratta di mandarmi la vostra domanda e io vi mando un video di risposta, quindi scegliete un po' quello che è più adatto a voi oppure ci sono i pacchetti per avere un po' di sconto sulle diverse sessioni ci sono i pacchetti con coaching e analisi karmica. Cominciamo quindi con il nostro consiglio angelico che è un set di terra. Ebbè, è una bella carta perché è una carta che ci porta comunque a dei risultati più avanti, non subito. Ci porta a... Ci sembra magari di essere un po' in attesa, ma non è una brutta attesa, anzi, è un'attesa nella quale noi sappiamo che abbiamo fatto delle cose e i risultati devono arrivare prima o poi, non possono non arrivare. Se voi avete piantato il semino innaffiato, la piantina sta crescendo, 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 prima o poi i frutti li darà. Quindi, anche se sembra che ci sia uno stato di pausa, si tratta solo di una pausa temporanea. Inoltre, questa è una carta che ci rimanda un messaggio ridondante in questa stesa. Questa è una carta che parla di preoccupazioni inutili e anche questa è una carta che parla di preoccupazione ingiustificata. Quindi è un'energia molto chiara per noi. Non preoccuparti, lascia fluire, lascia che le cose vadano. Stanno andando per il verso giusto. Devi solo avere un attimino di pazienza e vedrai che i risultati arrivano. E con questo, ragazzi, io, come sempre, spero di esservi stata utile. Vi invito a contattarmi se ne sentite il bisogno e altrimenti io vi mando un saluto, un abbraccio alla prossima e ciao!